Un uomo e una donna parlano delle scorte per l'ufficio. Cosa deve ordinare l'uomo? Devi controllare l'inventario delle scorte per il nostro ufficio e ordinare le cose che servono una volta al mese. Per questa volta controlliamo insieme con questa lista. Grazie. Allora iniziamo con la carta. Sembra che ne sia rimasta solo un pacco. Ogni giorno usiamo un sacco di carta, quindi ordiniamone altri due pacchi. Ok. La cartuccia a colori della stampante è finita. Dovremmo ordinarla? No, questo non è un problema perché non stampiamo documenti a colori. Ah no? Va bene. Forse i pennarelli per la lavagna bianca sono quasi scarichi. Sì, quelli bisogna sostituirli. Abbiamo uno sconto se ordiniamo un set da cinque pennarelli, quindi ordiniamoli. Ok. Ah, possiamo ordinare anche un mouse? Il mio non funziona molto bene. Ah, penso che sia perché si stanno scaricando le batterie. Controlliamo quante batterie ci sono e ordiniamole, se ne sono rimaste poche. Certo. Beh, abbiamo solo tre batterie. Ne puoi prendere due per il tuo mouse, ma comprane un pacco da sei per sostituirle. Cosa deve ordinare l'uomo? Un uomo e una donna parlano delle scorte per l'ufficio. Cosa deve ordinare l'uomo? Devi controllare l'inventario delle scorte per il nostro ufficio e ordinare le cose che servono una volta al mese. Per questa volta controlliamo insieme con questa lista. Grazie. Allora iniziamo con la carta. Sembra che ne sia rimasta solo un pacco. Ogni giorno usiamo un sacco di carta, quindi ordiniamone altri due pacchi. Ok. La cartuccia a colori della stampante è finita. Dovremmo ordinarla? No, questo non è un problema perché non stampiamo documenti a colori. Ah no? Va bene. Forse i pennarelli per la lavagna bianca sono quasi scarichi. Sì, quelli bisogna sostituirli. Abbiamo uno sconto se ordiniamo un set da cinque pennarelli, quindi ordiniamoli. Ok. Ah, possiamo ordinare anche un mouse? Il mio non funziona molto bene. Ah, penso che sia perché si stanno scaricando le batterie. Controlliamo quante batterie ci sono e ordiniamole se ne sono rimaste poche. Certo. Beh, abbiamo solo tre batterie. Ne puoi prendere due per il tuo mouse, ma comprane un pacco da sei per sostituirle. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Ciao.